Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora devo chiedervi scusa perchè per un bel po' non mi sono fatto sentire Tra virgolette vedere vabbè Con nuovi video della serie principale di minecraft Perchè sono stato un po' male, mal di gola, roba, impegni vari Quindi non sono riuscito a registrare per un bel pezzo Quindi riprendiamo un po' dalle ultime cose Allora abbiamo finito di incantare qui l'armatura per andare contro al drago dell'end Ah aspetta stavo dimenticando Allora torniamo indietro Torniamo indietro E dicevo che No dovevo ricordarmi che Abbiamo superato i 3000 iscritti da una settimana più o meno Vi ringrazio tutti tantissimo di cuore Veramente grazie grazie a tutti Vorrei ringraziarmi uno per uno ma non posso farlo purtroppo Sarebbe una cosa decisamente troppo lunga Quindi passando a ringraziamenti e saluti Ringrazio e saluto un mio caro amico che si chiama Leonardo E che segue la mia serie di minecraft Ciao Leo Allora andiamo avanti Allora dicevo abbiamo fatto l'armatura incantata Credo sia finita così Poi controllerò Adesso un'altra cosa importante per andare contro il drago E' esattamente qui Vediamo se riesco a indicarvelo Qua Questa parte qua Ovvero dobbiamo andare a farci delle pozioni Ah ok aspetta aspetta Prima di andare alle pozioni Però vi faccio vedere Oddio sta cominciando a laggare di nuovo Anche se ho passato ulteriormente le Come si chiamano Le specifiche grafiche di minecraft Anche se uso optifine Allora questo non ricordo se l'avevo fatto vedere Che è il passaggio che ti porta su di là E qua ho fatto la cosa degli funghi Anzi vediamo se ce ne sono Si magari più tardi dopo recolgo un po' di funghi Allora volevo farvi vedere i progressi fatti qui Nella nuova farm di Perché mi viene da dire zucchero e non grano Un problema Nella nuova farm Allora Come vediamo se riusciamo a fare le cose fatte discretamente Ok Qua adesso ho messo queste scale Questo è l'ultimo livello Qua c'è la cosa di redstone Che viene attivata direttamente da dentro E farà cadere l'acqua Qua abbiamo già cominciato a piantare E non mi ricordo se ho già raccolto una o due volte Boh può essere E questi sono i livelli preparati E voi vi chiederete Ma se io metto l'acqua in alto Come faccio poi a farla arrivare fino a giù Oddio aspetta Oddio 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 Qua è tutto quello che ho scavato Quindi riempiremo fin là sotto Come facciamo a riempire Cioè A raccogliere tutto Se Ok non l'ho distrutto Se Ci sono queste cose qui Come fa ad arrivare fin sotto l'acqua Beh semplice Ci sono i cartelli che la deviano A un livello sì Uno no Viene deviata dal flusso dell'acqua Quindi fa tipo zig zag Tra i piani E poi Giù ci sarà il sistema di raccolta Di Tutto il grano Non è magari una delle più efficienti O altro Però Mi piaceva farla così Stavo pensando di magari Metterci direttamente anche patate O robe del genere Però ho detto No 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 Noi siamo fighi Facciamo una farm a parte Per le patate Per la netherwart Per tutto quanto Anche tra l'altro Quella della netherwart Dovrei farla parecchio grande Perché tra le pozioni I nuovi blocchi Che hanno fatto Ce ne servirà un sacco Se vogliamo costruire Con quei blocchi Allora vediamo Ah sì ok C'è un po' di Un po' di casino Anche qui Poi metterò in ordine E così E questo è Il progress Che abbiamo fatto Qui Ho rimosso Il piano superiore Qua mi faceva un po' Schifo Mi dava fastidio E Credo lo lascerò Così Allora Allora Qua non ho fatto ancora Un passaggio No ok Allora Torniamo indietro E andiamo Alla farm Di pozioni Perché Perché quando si va Contro il drago È utile avere Con sé Delle pozioni Ah se vedete Questa grafica Che non è Più tanto bella Illuminata O comunque Se vedete Un calo un po' Nella grafica È perché Ho dovuto settare Diciamo Un po' più basso Al minimo Insomma A livelli più bassi Le impostazioni grafiche Per poter far girare Minecraft Non so perché Ma Purtroppo Il mio computer È sempre più lento E faccio sempre più fatica Anche A giocare a Minecraft E registrare Quindi è uno Anche dei motivi Per cui Magari Ci sono dei periodi Dove non registro Oppure Perché Il video di Minecraft Sono Una volta a settimana Allora Eccoci qui Alla farm Di pozioni Allora Vediamo Prima diamo Un'occhiata A che cosa abbiamo Ah È vero Avevo raccolto Un altro po' Di soffio di drago Prima di ammazzarlo Velocità Chissà perché Le ho fatte Ah sì Ok Questo era per Trasformare le pozioni Ma non Vediamo Lentezza Salto Danno Istantanea Velocità Di forza Ok Salute istantanea Rigenerazione Resistenza Al fuoco Eh In realtà Ne abbiamo già Abbastanza Beh Ne faremo un altro po' In questo episodio Allora Andiamo a vedere dietro Tutto il meccanismo Che l'avevo anche un po' Aggiornato Tra l'altro Con lo smistamento Cesto Ma l'avevo già detto Mi sa Allora Quello che dobbiamo fare È controllare Se davvero Ci sono Tutti gli ingredienti La nether wart C'è Le carote d'oro Ci sono Il magma Come chiamolo In italiano La crema di magma C'è Il zucchero Pure Qua L'anguria Luccicante Anche Va bene Gli occhi di ragno Gast Tier Gli occhi di ragno Fermentato Va bene Anche questo c'è I puffer fish Il pesce palla Non pensavo di averne messi dentro Così tanti Anche le zampe di coniglio Perfetto Perché abbiamo la farm Il resto nella pietra cosa Ce ne abbiamo a flotte Tra l'altro Visto che con il nuovo aggiornamento Cos'è la 1 13 1 14 Aggiungeranno Delle altre pozioni Eh Delle altre pozioni Quindi a me toccherà Ampliare Ancor di più Questo Immenso macchinario Di pozioni Automatiche Insomma Torniamo giù Mi ero scordato Di aver fatto Questo magazzino Per le pozioni Che non ho ancora Utilizzato In realtà Quindi Allora Una Ce l'abbiamo qua E non è un problema Però se per caso Ne aggiungessero Due La cosa Comincerebbe A diventare Problematica Perché mi tocca Metterlo qui E mi darebbe Molto fastidio Come in realtà Da fastidio Anche questo Cosa vuoto Però Lo stile Architettonico Andrebbe un po' A farsi benedire Perché Dovrei mettere Le robe anche qui E inoltre Molto probabilmente Anzi Quasi sicuramente Diventerebbe un po' Un problema Passare la redstone Qua dietro Cioè Dovrei tipo Smontare Metà dei circuiti Del lato O di questo O dell'altro Aspetta Se riusciamo a parkurare Un pochino Ok O di questo Probabilmente Questo è anche Più semplice Da Sistemare C'è meno robe In mezzo E in più Dovrei aggiungere Una riga Qua Così Quindi vediamo Anzi Sperando che Sì Beh Dopo al massimo Ci aggiungo i repeater Allora Dobbiamo fare Delle pozioni Adesso vediamo Perché non me le ricordo Tutte le memorie Abbiamo Respirazione su acqua Non ci serve Il salto Sì Dai Mettiamo a fare il salto Bisogna notturna No Resistenza al fuoco Mi pare che ne avevamo Abbastanza E rapidità Non credo Ci possano servire Vediamo Allora Resistenza al fuoco Eccola qua Solo questa O forse ne ho più Ne ho più versioni 3 minuti 8 minuti Ah vabbè Ok Allora Facciamo una cosa Un po' più Tattica Queste le spostiamo Tutte di qua Così sappiamo Che sono tutte uguali E adesso Andiamo a vedere Anche le altre Pozioni Che abbiamo messo qua Allora Pozione della forza Aspetta Se non faccio così Non Vengono giù Anche questa Perdona Queste sono Della forza Abbiamo Sì beh In effetti Ho lo smistamento Sì lo smistamento Il magazzino Qua Da riempire Possiamo anche riempirlo Con le pozioni Della forza E finché aspettiamo Che si fa Questo Sono prontessi Ok Direi che Tre salti Vanno più che bene O ne facciamo Un altro po' Ma dai Si crepi L'avarizia Facciamo un altro Pozione di salto Pozione di salto Così Adesso queste Le mettiamo via E queste pure Allora Queste sono quelle Della forza Qua ci mettiamo Quelle del salto Poi ci metterò Le picchettine Per fuori Così Fammi uscire Incastrano sempre Sulle porte Ah Aiuto Ok Poi Vediamo Queste cosa sono Rigenerazione Salute istantanea Allora Salute istantanea Uh Ne abbiamo parecchie E rigenerazione Ne abbiamo un po' Meno Ok Quindi direi Di non fare Le salute istantanee Perché Ne abbiamo Ok Adesso Prendo Quello del salto Che abbiamo Appena fatto Vediamo Ok Sono pronte E facciamo Lentezza Quarigione Deve essere Quarigione Rigenerazione Forza No aspetta Non mi ricordo più Devo fare Rigenerazione Eccola qua Allora Nel nether Sì nel nether Buonanotte Sognatori Quando andremo A combattere Nel land Cioè Non tramolto Almeno Quello che spero io Bere le pozioni Sarà un po' Un casino Quindi Io direi Che possiamo Farle da lancio Così sono più facili Da Maneggiare Per così dire Ne prendiamo Tre di queste Della forza Non lo so Se possono esserci utili Ma io le prendo Lo stesso Ok Chiudi Allora Vediamo se Posizione Ormai Trasfondo In posizione Perfetto Iniziamo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 Ok Vediamo se Il tutto funziona No aspetta C'è qua il quadra Che non cosa Perché non le ha fatte Da lancio Mi chiedo io C'è qua il quadra Che non cosa Che siano uscite Direttamente Non riesco a beccare L'allambicco Non riesco a beccare L'allambicco Mi pareva Di averlo anche Provato Sto sistema Mi pareva Funzionasse Che problemi C'hai adesso Allora Facciamo una prova 1 2 3 Io ti metto qua 1 2 3 No Non arriva Nell'allambicco Perché non restano Nell'allambicco Vuoi vedere Che mi tocca Tenere l'allambicco In parte Non posso farlo In automatico Che pizza Provo Ah che cavolo Devo sistemare Questa cosa qua Va bene Allora Per adesso Facciamo così Abbiamo risolto Mezzo problema E le mettiamo dentro La mano Perché non c'è Il tempo Materiale E l'ho dimenticato Beh Questo Possiamo anche Richiuderlo Se riesco Non ha il tempo Materiale Di smeltare Diciamo Di fare Le Le pozioni Nell'alancio Perché ce l'ho Per sotto Quindi dovrò Inventarmi qualcosa Con l'impulso Di redstone Da dargli Soltanto Quando la roba È finita Vabbè Oppure Mi tengo L'alambicco Per fuori E basta È che Il sistema Automatico Era carino Se no guardo Su internet Magari trovo Qualcosa di più È che non ho Molto spazio Per usare La redstone Qui dietro Comunque Adesso Ne metto Altre tre Poi mi pare Che per Land Abbiamo anche Finito Cioè nel senso Che Una volta Preparate Le pozioni L'armatura Essenzialmente Siamo A cavallo Vabbè Le armi Ce le ho Già Da un po' Anzi Al massimo Non sono Da riparare Le riparerò Ci sono Anche In realtà Le pozioni Quelle Da Da effetto Aspetta Quella che si usa Col coso Del drago Fammi vedere Soffio Del drago Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Allora abbiamo Rigenerazione Così Ma se io ci metto Questo No Non mi ricordo più Come si usa Il soffio del drago Sì perché ci sono Oltre le pozioni Normali che bevi Quelle da lancio Che lanci Ci sono quelle da lancio Persistenti Che restano per terra Non so quanto utile Possano essermi In questo momento Sinceramente Per la battaglia Del drago Però Magari Un rigenerazione Un saluto Istantanea Potrebbe andarci Va bene Allora Purtroppo In questo episodio Non abbiamo fatto Moltissimo progress Vediamo se riesco A Ok Girarmi Con questa Skin Di Kaneki Bellissimo Che tra l'altro Sta uscendo La nuova stagione Di Tokyo Ghoul Si subata Perché inita No Ci vuole ancora tempo Comunque Bando alle ciance Vi ringrazio tutti Per la visione Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Date un'occhiata Anche alla pagina Facebook E Niente Provate magari Anche a vedere Qualche altro video O a giocare Con i quiz Delle sigle Degli anime Se vi piacciono E se non vi piacciono Potete sempre provarci Vi ringrazio ancora Ci vediamo In un prossimo episodio Ciao